ciao e benvenuto nel mondo dei pokémon io mi chiamo ok ma qua tutti mi chiamano aspego me che mi chiamano ah si tutti mi chiamano ok come sicuramente saprai questo mondo è popolato da delle creature che potrebbero tranquillamente distruggerci tutti grazie a quei malefici poteri che chiaramente sono frutto della perfidia di satana in persona questi abomini noi li chiamiamo amorevolmente pokémon e visto che siamo anche in uno stato in cui c'è un evidente buco normativo su queste bestie omicide ora che hai dieci anni puoi tranquillamente andare da solo in giro per questo mondo ostile e pericoloso aspetta un attimo tu tu hai dieci anni giusto yep ho dieci anni ormai da 22 anni ok comunque ritornando a noi prima di iniziare il tuo cammino dovrai scegliere un pokémon ognuno di loro ha delle caratteristiche uniche che li rendono delle perfette armi di distruzione di mosso ora dimmi quale di queste orrende creature porterai via con te charmer con improbabile polmonite interseziale da covi scoccarone o pianta quale scegliere quale scegliere a quanto pare non rimane altro che il pokémon covid e sia charmer scelgo te scegliere a quanto pare KDA LA LILIcito LA 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 Grazie a tutti.